Arriviamo a 4.000 mi piace e vi giuro che inizierò una serie su questo gioco domani stesso 4.000 like, spolliciate, buona visione E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo Finalmente, dico cazzarola, finalmente, su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 L'ultimo, dicono, capitolo della saga Porca troia, porca troia Che contiene tutto l'anime di Naruto Shippuden, ovviamente Allora, intanto, ragazzi, ho una bellissima notizia Non ci farò una serie, ve lo dico già da adesso Però posso dirvi che questo gioco lo potrete acquistare anche voi Perché sono riuscito a farmi dare da Kiwin un codice sconto Dal link che troverete qui sotto in descrizione L'ho acquistato anche io Mettendo il codice, quando acquistate qualunque tipo di gioco Mettete PEPO3393 Ragazzi, avrete il vostro sconto Ho acquistato il gioco di Naruto Ci ho messo i secoli per installarlo Perché sono 32 giga di gioco Ragazzi, non vedevo l'ora Madonna mia, non vedevo l'ora Non vedevo l'ora, porca di quella Questa è una storia, avventura Raccolta, battaglia online Storia Minchia, quanto sei figo Ragazzi, io amo Naruto Non vedevo l'ora Vabbè, sì, le sappia Perché ho giocato i precedenti Naruto Ragazzi, le sa queste cose Le stelle Storia originale, illustrazioni Masashi Kishimoto Moto Kishimoto Che bella smetto Aspetta, ho messo i sottotitoli in Italia e nell'audio in giapponese Se l'audio in inglese Ascoltare Naruto In inglese È la cosa più brutta del mondo Ah, ci non ne sono opzioni Ok, rieccoci dove ci eravamo lasciati Stavolta in giapponese Spero Sennò è buono Arigato Itadakimasu Arigato Oh, apriamo Che figli effetti Da morire Karikutun Tuseka Vabbè Vamone Katumarato Katum Kasimun Nojutsu Madonna Ashirama Cybercon Ah, sviluppato da Cybercon Salve signor Madara Prodotto da Bandai Namco Entretainment Che cazzo vuol dire sto Entretainment Oh, shh Tra i senjutsu Tra i senjutsu E i senjutsu Senjutsu Non mi ricordo Oh, mi muovo Oh, sì Ma Che dice? Aspetta Non posso combattere e leggere Scusimi 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 Tantissimo Aspetta Ui Schiaffi Che ti do Bastardo Sì Ma aspetti Non posso Vabbè Devo leggere Aiuto Ti vuole uccidere Il primo Kage Ashirama Senju Madonna Xio Che non c'è Eh Vabbè 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 La vol per nove code Madonna Oh, le stelle Le stelle Oh, su Su E ti ho preso Eh Povero Kurama Oh, cos'è Cos'è Condizioni Oh, sconfigge Oh 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 Avanti Avanti Uccidi Madara Oh Salve Madara Salve Oh Aspetta un attimo Aspetta un attimo Oh, l'attacco è la miglior difesa Salve Ah E la Madonna Vabbè Vabbè Salve Madara Buongiorno Salve Ah, cazzo M'ha preso Omae 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 Vabbè Domani Eh Salve Madonna Eh Vabbè Oh, si è liberato Kurama Spade Oh, le posso prendere Aspetta Le levati dal cazzo Come si prendono B B Aspetta un attimo Fammi prendere le cose Maria Rottore Palle Gesù David Adonmi Ma fanculo Ma Come cazzo le prende Aspetta Cosa Sì Prese Te la spacco la faccia Oh, distruzione costume, baby Distruzione arma Yes Arrivo, Madara Oh, si Oh, salve Noi Si su No, no Che co Aiuto 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 Uh, uh Bah, bah, bah Nonna mia Gli schiaffi Che ti do Ma gli schiaffi Che ti do Ma gli schiaffi Che ti do Che se lo senti Pergamenato oro No Aspetta Mi devo ricaricare Vediamo Aspetta Sì, su Succa Succa Lo schivo Ah, ah Wuhu Peccato, baby Sei Dai, dai, dai Sei, madonna mia Che bello Sto scontro Buongiorno Buongiorno Signor Madara Ma che bello È Chiudini Oh, chiudini What the Troia BBB Eh, te l'ho parata Eh, te l'ho parata signorina sto spruzzando di gioia sono morti tutti che la schifa e abbiamo beccato pure la stella per il video ah questo qua mi stai davvero dicendo questo che figa risultati in battaglia concludi con oltre 50 impedisci che kurama lanci una grande teriosfera vai 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 che vi spacco tutto vieni qua bastardo oh ma madonna con quali pugni me lo stai dicendo buongiorno kurama sei incazzata kurama aspetta che vengo da te aspetta e ti schivo e ti ho beccato baby cazzazzo della madonna porca troia aspetta un attimo che arrivo senti senti guarda qua madonna mia cazzarola sei forte donna mia beccati sti cazzotti come cazzo faccio schivarti schifoso nel culo o nel culo minchia ho dritto nel buco del culo e mi spiace kurama beccati questo distruggi un abbracciamo signori sei colpito uh uh e voglio la spada e voglio la spada signori l'onda energetica veloce no veloce 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 no 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 si si impedisce a kurama con susano che lanci una teriosfera schifoso non ti permetterò di andare dove cazzo ti pare e ti ho schivato baby uh uh madonna mia che bello è eh vabbè dai yes oh ancora ancora eh qual è il problema eh qual è il problema baby qual è il problema fallare oh 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 ce l'ho durissimo ragazzi ce l'ho mi sono sporcato porca di quella vacca sono tutto appiccicoso adesso madonna che belli disegni che belli oh la statua madonna la statua quella della madonna quella che ce l'ho eh porca vacca fa malissimo sta mossa ragazzi fa malissimo hashidama sarà tipo la stessa cosa provvedibile come la cacca vai che devo premere oh B B B B B B B lo sto chiamando killer B B B B si contate i pugni loser B B B ah no ho sbagliato no 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 ho sbagliato no ho sbagliato alla fine era no ho sbagliato si vabbè ma ho sbagliato si vabbè ma ho sbagliato si vabbè ma ho sbagliato alla fine devo premere la B porca troia no ah volevo la S vabbè però porca troia serie di battaglia che avete sbloccato oh la storia di ninja oh salve ciao guardate che bello oh mi hanno dato i kunai di platino non so che caccio mi servono ma va bene la storia di ninja 2 ho fatto tutto ragazzi abbiamo fatto la prima parte la storia di ninja ho detto all'inizio video che non ci avrei fatto una serie vediamo allora a differenza dell'altro gioco di naruto questo ha una storia quello che mi piace cosa che nel primo nel presente naruto la cosa del torneo dei ninja era una cagata ma la storia cazzo se me lo fa venire duro arriviamo a 4000 mi piace sotto questo video e io vi giuro che ve lo continuo promesso detto questo spero che il mio video vi sia piaciuto e se è così ragazzi spolliciato se siete fan di naruto compratelo avete visto soltanto questo io però l'ho visto quello che avete visto voi oggi in questo video l'ho visto io ma lo dovete comprare se anche voi se anche voi amate naruto lo dovete avere per forza ricorda che per acquistarlo qui sotto in descrizione troverete il link che vi porterà appunto alla pagina di kingwin e lo acquistate mettendo come coupon pepo3393 così avrete lo sconto non ve lo dimenticate detto questo nulla ragazzi spero di dire che il video di oggi vi sia piaciuto e nulla noi ci troviamo ad un prossimo video vi voglio bene e ciao ciao ciao